Il Guardiano dell'Es di Alberto Milani Qualcuno ha detto che dentro di noi esiste un viaggiatore che ci spinge a varcare i confini della nostra mente. Il vento gelido non dava tregua alla carne e il tramonto gelido aveva portato con sé l'incubo di una notte che avrebbe mietuto vittime tra il popolo dei senza tetto. Era impossibile resistere fino alla nuova alba senza un riparo decente e un fuoco presso cui scaldarsi. Mi avvicinai a un gruppo di straccioni che stazionavano lungo via Padova dalle parti dei capannoni industriali dismessi. Quei posti pullulavano di disperati durante le notte invernali. Il fuoco acceso dentro ad un vecchio bidone arrugginito proiettava le loro ombre deformandole e ingigantendole rendendo loro in parte la dignità che il mondo gli aveva tolto. Uno di loro mi scorse. Chi si vede? Iemael, il filosofo. Che fai da queste parti? Pensavo abbiazzicassi la zona della stazione. Cerco lo stentato. Capisco. Cerchi un po' di ciuccia per passar meglio questa notte malvagia. Vieni, ti accompagno da lui. Lo stentato era una mia vecchia conoscenza. Maligno e ripugnante. Per qualche motivo mi aveva preso in simpatia. Mi accolse col suo sorriso deturpato. Iemael, scommetto che vuoi un poco della polvere verde che ti piace tanto. Per tua fortuna me ne è rimasta nel retro bottega. Sai, non sono in molti a volerla, quella roba. La gente cerca di fuggire dai propri problemi. Invece quella ti fa piombare dritta in mezzo agli incubi schifosi. Non è un bel viaggio. Proprio per niente. Te la regalerei. Ma sai, devo pur farci su un guadagno. Mi allungai trenta euro e lui mi premiò di un sorriso abominevole. Di nuovo solo mi spustai di un paio di isolati e mi acquattai in un vicolo dietro a un cassonetto maleodorante. Accesi un fuoco con della carta mista a plastica e alcuni frammenti di legno che avevo recuperato da una sedia rotta. La green era una droga che ti conduceva nei meandri della mente, dove si generavano illusioni necessarie affinché la coscienza potesse comprendere ciò che la mente stessa partoriva. Questa, almeno, era la teoria dei consumatori di green. Mi appoggiai al muro di mattoni, mentre il fuoco crepitava di fronte a me, e infilai la polvere verde sotto la lingua. Infine chiusi gli occhi. Mi ritrovai in un paesaggio brullo, piano, interrotto solo da alberi rinsecchiti, quasi come se quel posto fosse stato devastato da un incendio. Presi a camminare senza meta, perché sapevo che non vi era un sentiero determinato da seguire. In quel non luogo, ciò che cercavi veniva a te. Non era necessario andargli incontro. Presto cominciarono ad apparire ombre fuggenti, altre grigie e ruvide come l'asfalto. Poche con strisce di colore, macchie bluastre o verdognole. Le riconobbi per averle vedute in altri viaggi. Allora credevo fossero la rappresentazione dei miei ricordi, il mio passato infelice, un'infanzia rubata, l'alcol, la solitudine, la miseria. Non potevo certo disporre di memorie raggianti. Quei tetri ammassi impauriti erano il prodotto di un'esistenza infima. Avevo provato ad avvicinarmi e mi era parso di intravedere all'ora delle immagini. Mio padre che mi schiaffeggiava in uno dei tanti suoi attacchi d'ira, il mio riflesso adolescente che vagava per le strade invece di recarsi a scuola, una ragazza spiata in silenzio, i campi della fame che mi costringevano a rovistare nella spazzatura. Avevo deciso di lasciare andare quelle ombre. Ecco che un urlo aveva squarciato il cupo silenzio di quel luogo. Lo riconobbi subito. Così si annunciava il guardiano. Ogni volta che mi ero trovato di fronte a quell'essere, avevo dovuto arrendermi alla sua ostinazione e abbandonare la lotta. Lui presiedeva l'ess, quella parte della mia mente a cui volevo accedere. Essa rappresenta, come dice Freud, la voce della natura nell'animo dell'uomo. Entrandovi ne ero certo. Avrei scoperto i segreti più reconditi della mia mente, forse la scintilla ancestrale che distingueva l'uomo dagli animali. Forse era la grina a distorcere le mie convinzioni, non saprei, ma allora era per me un'ossessione. Poco dopo apparve il guardiano, col suo corpo in forme, simile a uno spesso tronco d'albero contorto, ma con la consistenza della carne e privo di rami. Solo quel grande bulbo oculare, in cima, che ruotava spiando intorno a sé, col sospetto mostrava repellenza e possedeva un'energia invisibile, capace di respingermi con forza. Per passare oltre dovevo ottenere il suo permesso. Più e più volte mi avvicinai per essere respinto alcuni metri indietro. Non provavo particolare dolore, perché anch'io ero in quel luogo, privo di corpo, ma un senso di angoscia e impotenza cresceva dentro di me, ogni volta che mi scaraventava più lontano. Cominciai a gridargli addosso, che non lo temevo, perché io ero il suo padrone e per questo doveva lasciarmi passare. Era mio diritto avere accesso a ciò che custodiva. Non so se mi comprendesse, ma cercavo di usare un tono autoritario. In fondo era vero. Io l'avevo creato e in qualche modo dovevo essere in grado di disinnescarlo. La mia insistenza ottenne infine dei risultati. Il guardiano mi respingeva con energia, via via più debole, finché riuscì ad avvicinarmi a lui tanto da poterlo toccare. Il contatto fu disgustoso. Non solo il suo corpo in forme sembrava ricoperto di pelle umana, ma anche al tatto l'impressione era la medesima. Sotto quella cute avvertivo muscoli e tessuti che si contraevano e vibravano. Dovete sforzarmi per non ritirare la mano. Comunque l'avevo domato, ne ero certo, e il suo orrendo bulbo oculare, ricco di venature, smise di guardare in giro e si alzò a fissare il cielo plumbeo. Sembrava aver perso interesse nei miei confronti. Passai quindi oltre per inoltrarmi in un terreno mai esplorato. L'ambiente si fece sempre più desertico, ma nessun sole scagliava raggi di luce e calore su quella terra. I piedi sprofondavano fin quasi alla caviglia in una finissima sabbia e uno strano vento che non avvertivo sul volto spostava alcune nuvole sabbiose. Presto vedi quella che poteva rassomigliare a un'oasi, anche se gli alberi erano in contrasto con la flora tipica dei deserti. Avvicinandomi, vidi lecci, abeti stretti in una fitta boscaglia. Mi inoltrai al suo interno e sotto i miei piedi la sabbia lasciò il posto al terreno tipico del sottobosco con muschi e un tappeto di foglie. Percorsi un paio di centinaia di metri e giunsi ad uno spiazzo erboso in mezzo al quale, con mia meraviglia, vidi un ovulo da cui spuntava un fiore alto più di un metro. Era composto da una miriade di petali traslucidi e diafoni al contempo. Mi avvicinai esitante e con mano tremante ne sfiorai uno. Mi ritrovai nell'abitazione dei miei nonni materni, una vecchia casa dalle parti di Cremona, dai disegni sui festoni e dal grosso uovo di cioccolato che mia madre teneva tra le sue braccia, compresi che doveva essere il giorno di Pasqua di chissà quale anno. Ero molto piccolo e, fatto strano, sembravo felice, mentre i miei ricordi pasquali si mescolavano di solito a episodi tristi e imbarazzanti. con mio padre che non vedeva l'ora di andarsene per incontrarsi con la sua amante e le scenate di mia madre. Era una scena perduta dell'infanzia. Quei petali richiamavano ricordi, ma, a differenza delle ombre sfuggenti, ero di fronte a momenti del mio passato a cui prima non avevo accesso. sfiorando un altro petalo, mi vidi devastato da un'ubriacatura colossale mentre vagavo lungo la banchina del porto, gridando alle persone quanto la vita facesse schifo. Se quel fiore era il fulcro del mio es, mi deludeva. Non cercavo i miei ricordi perduti, miei ricordi universali, eventi di un tempo lontano che appartenevano all'umanità intera. Ero certo che le esperienze dei nostri antenati si fossero fissate nella nostra mente in un qualche tipo di processo di apprendimento evolutivo. In un tratto, toccando un petalo più interno, vidi una grotta con le pareti di roccia ricoperte di vegetazione. Osservai uomini vestiti di pelle che dormivano sulla nuda terra. L'avevo trovato. Un ricordo che apparteneva a chissà quale era passata. Poi un lampo e vidi il volto di due uomini chinati su di me. Riconobbi il vicolo dove mi ero acquattato. Per un attimo ancora rividi il fiore. Poi tutto sprofondò nell'oscurità. I paramedici mi avevano riportato indietro proprio quando mi stavo per avvicinare alla verità. In ospedale il dottore fu chiaro. Mi avevano salvato per un pelo. Un altro giro di green e sarai morto. Quando mi dimisero infilai il mio logoro cappotto e camminai per le strade della città. Ripensando a ciò che avevo veduto e se il sacrificio della mia miserabile vita sarebbe stato un giusto prezzo da pagare sull'altare della conoscenza. Molte notti mi avvicinai alla tana dello sdentato ma ogni volta girai la schiena allontanandomi. Codardia forse ma la vita dentro di me possedeva radici più profonde di quel fiore incredibile apparsomi nell'ess. Mi rassegnai scrutando l'oceano imbizzarrito e domandandomi se anche attraverso le meraviglie del creato intorno a me non vi fosse un modo per raggiungere le risposte che cercavo. Grazie a tutti.